Oltre a fare chiarezza sulla questione della decadenza dalla carica di sindaco, siamo intervenuti su diverse inesattezze emerse nella conferenza stampa di qualche giorno fa, promossa dal Movimento Politico Forza di Governo, Alba per Satriano. Così Alessandro Catalano, consigliere comunale nuovamente Satriamo, è promotore del ricorso che ha portato alla decadenza del primo cittadino Aldo Battaglia. Tra i temi affrontati, i debiti che, secondo la maggioranza, la vecchia amministrazione in cui Catalano era vice sindaco ha lasciato. Stasera abbiamo fatto chiarezza, abbiamo detto che in realtà si trattava di cose inesatte, si trattava di sciocchezze, di cose poste in maniera artefatta proprio per distogliere l'attenzione dal problema reale, da quello che in questo momento sta avvenendo, che è una situazione di stallo, una situazione di ferma, una situazione in cui a Satriano non c'è un'amministrazione. Non c'è un'amministrazione perché il sindaco decaduto ha deciso di, a un certo punto, di autosospendersi in autotutela, per cui non si capisce chi è sindaco e chi non è sindaco e questo lo ha determinato il sindaco Aldo Battaglia, interpretando male la norma e interpretando anche male l'ordinanza. Per cui io stesso stasera ho fatto riferimento a alcuni fatti particolari, una che mi toccava in particolare era quella relativa alle tante manifestazioni culturali, sportive, ricreative, della cultura che nei dieci anni di amministrazione drossi sono state realizzate, tra tutte il Satriantella Festival che ha avuto un eco per otto anni, un respiro regionale, che ha portato a Satriano migliaia di visitatori, ma abbiamo detto anche che è un'amministrazione che investe in cultura, che investe in spettacolo, che investe nelle manifestazioni, nel recupero delle tradizioni, è un'amministrazione attenta alla pari di quella che realizza tante opere pubbliche e tantissime altre situazioni. Uno degli assessori dell'amministrazione Aldo Battaglia si è lasciato andare rispetto anche a delle battute, perché spesso ci si emoziona davanti a un microfono e si dicono alcune cose pesanti. Io l'ho invitato ad andare a riferire per la parte mancante rispetto ai pagamenti delle manifestazioni, alla parte che non ha voluto dire esplicitamente, dire carsi in caserma e dire quello che immaginava dire, perché noi non abbiamo nulla da temere. È stato fatto tutto secondo i criteri dettati dalla norma, è stato fatto tutto in sinergia con gli uffici da sempre, non c'è stato mosso mai nessun rilievo né da parte del Revisore dei Conti né da parte del responsabile del servizio, per cui veramente noi se dovessimo spendere un minuto in più a parlare di queste sciocchezze avremmo fatto male, perché c'è bisogno che le nostre energie e le nostre forze invece vengano spesse al servizio della comunità, è nel posto che i cittadini ci hanno dato, che è quello della minoranza in consiglio comunale, quindi di una opposizione attenta e diligente. Un'amministrazione che ha vinto con largo vantaggio le elezioni dovrebbe spiegare quali sono i propositi e i programmi, anziché perdere tempo a riferire di un'esperienza di governo terminata da un anno e mezzo. Così Michele Drosi, già sindaco di Satriano, per due mandati consecutivi. Il sindaco che è stato dichiarato decaduto dal Tribunale Civile dovrebbe prendere atto che l'incompatibilità c'è e non far perdere ulteriormente tempo ad una comunità che ha bisogno di essere amministrata, che ha bisogno di essere ben amministrata. Invece viviamo una fase di disorientamento, di confusione, di stallo totale e questo con i tempi difficili che viviamo non ce lo possiamo davvero consentire. Quindi mi auguro che prevalga il buonsenso, che quindi si rinuncia a fare l'appello e che questa stagione così opaca e grigia possa chiudersi rapidamente per andare nuovamente alle elezioni.